La figlia di Vladimir Putin sta con Zelesky. Il quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato un articolo nel quale si allude a una possibile relazione tra la figlia del leader russo Ekaterina Tikonova, che ha cambiato il proprio nome con quello della nonna materna, e il ballerino Igor Zelesky. La 35enne è stata sposata col quarantenne miliardario russo Kirin Shhtalov, ma nel 2017 i due si sarebbero lasciati. Proprio in quel periodo avrebbe cominciato una relazione con il ballerino 52enne, fino ad aprile il direttore del Birish Stats Ballet, il balletto di stato badarese, carica che manteneva dal 2016 a cui ha rinunciato citando motivi strettamente personali. Anche lui sarebbe appena uscito da una relazione con la coleografa Yana Serebriakova e Ekaterina, 35 anni, e Igor, 52, nel 2017 avrebbero avuto una figlia. La notizia del legame tra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikonova, la seconda delle figlie di Putin avuta con la sua prima moglie Ludmilla, che proprio nel 2017 si era separata dal marito Kirill Shhtalov e dalle comunicazioni di una delle guardie del servizio di protezione del presidente assegnato a Ekaterina. Il sito di News Russo riporta infatti di averla vista rientrare in Russia da Monaco di Baviera su un aereo privato, poco prima dell'inizio della guerra in Ucraina, insieme alla figlia, alle guardie di scorta e proprio a Igor Zelensky. Vashny Story scrive di non sapere dove il ballerino abbia conosciuto la figlia di Putin, ma riporta che la coppia viva insieme da qualche tempo, alternando la propria residenza tra la Germania e la Russia. Grazie.